Dopo 15 anni dal sisma si sblocca la complessa vicenda delle case Ater di via Verzeri a Preturo. Oggi è stato inaugurato il cantiere che del via la ricostruzione. Le sei palazzine saranno demolite e ricostruite per 66 famiglie che nel 2025 potranno rientrare a casa. Interventi resi possibili anche grazie al ricorso del super bonus. In un anno e mezzo le famiglie potranno riavere appartamenti moderni e con tutti i comfort, ben lontani dalle case di prima. L'appalto è molto consistente anche dal punto di vista economico perché si tratta di oltre 30 milioni di euro. I lavori saranno effettuati dall'impresa Aquilana e del Fraer. La vicenda delle case popolari di via Verzeri ha tenuto banco molte volte sulle cronaca cittadine per le proteste degli inquilini, per le lungaggine e la ricostruzione. Ora finalmente si parte. Il tempo ne è passato e vorrei porre alla vostra attenzione il fatto che se non avessimo azzardato con un'idea progettuale importante con il super bonus sarebbe passato ancora moltissimo altro tempo perché i contributi sono stanziati ma non erogati e lo sarebbero stati solo all'esito di un processo che sarebbe durato almeno altri cinque anni, di tal che gli inquilini sarebbero entrati di qui a dieci anni. Invece, se Dio vuole, e comunque con la forza dell'impresa che ha affidatare di questo appalto, entro giugno 2025 già saranno consegnate le prime due palazzine su sei e le altre saranno consegnate entro ottobre dell'anno 2025. Era una delle priorità che avevamo. Sono felice di vedere che l'Ater è stato in grado di rispettare questo indirizzo. lo abbiamo fatto anche utilizzando strumenti innovativi e coraggiosi perché quasi è rinunciato al contributo sisma per investire con il super bonus grazie a un'azione sinergica, complessa, che ha messo insieme diverse istituzioni, compreso il Comune che tramite gli accordi fatti con gli istituti di credito, in particolare Biper, ha liberato oltre 100 milioni di euro. Grazie a tutti.